Buongiorno, oggi sono uscito tardissimo, sono le otto e mezza, proviamo a farci qualche calamaro e se ci riusciamo lo portiamo a passeggiare e vediamo che succede. Oggi in giornata così tocca e pudra, c'è vento, tanto vento, l'acqua sembra buona, ha un bel blu e cominciamo va, è un bel po' che non esco, si esce a sigliozzi se non la mia barca, non va, va bene andiamo. Ho un solo calamaro, questa mattina uno l'ho preso, un altro l'ho perso, sono andato a uscire che erano le otto e mezza e ce lo proviamo, vediamo che succede, peschiamo. iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un calamaro d'evo, un pesce ho preso e ora me ne posso lasciare. Anche perché ho un pesce in questo che ce ne devo fare. E allora, era ora, esco poco però, almeno quando esco qualcosa succede. Un pesce del pesciozzo ole ole. E va bene, sono le undici e mezza, ci possiamo ritirare dopo un pesce di questo, l'ho pesato, è 3,3 kg. Va bene, va bene, non ci possiamo lamentare. Un calamaro, un pesce, è inutile per cercare calamari. Non ha senso, facciamo questo per la prossima settimana, belle fettine congelate. Ora, stasera ci mangiamo la pasta con la testa, il resto in questi giorni ci diamo solo. Va bene, alla prossima. Ciao a tutti.